Cucchi, Gela e il Bastia, un missile dei classe 2002 arrivato dal Pescara, regala al Foligno la vittoria per 2-1 in rimonta all'esordio ufficiale nella prima gara di Coppa di Serie D. Un gol arrivato quando il cronometro segnava 93,20 secondi dopo i tre minuti di recupero assegnati dall'arbitro Ilaria Bianchini di Terni. Pronti via e il Bastia schierato da Cocciari con un 4-3-1-2 con Meniconi fra i pali, Rosignoli, Russo, Marconi e Bolletta in difesa, Menchinella, Milelle, Bococco in mediana con Berrettone alle spalle di Giglio e Tedesco fa subito le prove del gol con questo sinistro targato Bolletta. Neanche il tempo di rilanciare dal fondo che ha il primo pallone buono, Giglio si presenta così ai tifosi del Bastia, palla all'incrocio fra gli applausi degli esposti e Biancorossi sull'1-0. La nota più lieta della domenica dopo le vecchie ruggini del passato che hanno fatto del derby una sfida a rischio con limitazione e un dispiegamento incredibile di forze dell'ordine, arriva al diciottesimo quando dal settore riservato ai tifosi del Foligno si leva il coro Facciamo il gemellaggio rivolto ai sostenitori del Bastia. E la reazione dell'undici di Armillei messo in campo con un 4-3-1-2 con Roani fra i pali, Pinsaglia, Schiaroli, Tulao e Giannone in reparto arretrato, Pettinelli, Gorini e Fondi a centrocampo con Giabbe Cucci alle spalle di Buonaventura e Peluso arriva al minuto 30 e quando il Foligno trova Ari. A parte del merito va classe 2001 Giannovero pendolino sulla sinistra che pennella sul secondo palo per Giabbe Cucci e classe 2000 dal canto suo ringrazia e da lì non può che insaccare la palla dell'1-1. Il Bastia non ci sta e Tedesco manca l'appuntamento con la deviazione vincente sul cross di Bolletta con Roani che si salve in angolo sulla successiva conclusione di Menchinella. Prima dell'intervallo il Foligno protesta per questo fuorigioco segnalato dall'assistente Piomboni a Peluso, poi tutti negli spogliatoi con il termometro che segna 35 gradi. Nella ripresa Peluso il migliore dei suoi insieme a Gianno serve così Buonaventura anticipato da Meniconi. Il Bastia si vede con la sventola di Rosignoli dalla distanza, poi Cocciari concede la standing ovation a Giglio. Dentro al suo posto Silla i padroni di casa sfiorano il gol a metà ripresa quando Rosignoli scarica per Tedesco che si gira in un fazzoletto ma trova Roani a rispondere presente. Armillè inserisce l'ex Cagliari Arras per fondi e il Foligno costruisce la palla gol più limpida della ripresa fatto salvo il gol. Quando Peluso mette il turbo supera Russo ma trova la traversa a dirgli di no. Quando poi a Pettinelli ad arrivare al tiro sull'appoggio di Arras Meniconi c'è. Cocciari toglie Milella, il migliore dei suoi, stremato per far posto a Rondoni. Il Foligno trova il gol con Arras servito da Pinsaglia ma si alza la bandierina dell'assistente Barcherini ed è tutto da rifare per i falchi. Armillè gioca la carta Cucchi per Giabbe Cucci a 10 dal novantesimo e Peluso testa ancora i riflessi di Meniconi. L'aria Bianchini assegna tre minuti di recupero e tutti ormai pensano ai rigori. Quando però il cronometro segna 48 e 20 secondi il neo entrato con Vito sbaglia il disimpegno. Cucchi non perdona e lascia partire una bordata sulla quale Meniconi non può nulla. Il Foligno fa festa e pensa alla gara di domenica prossima al Blasone contro il Tolentino dell'ex Mosconi. Già affrontato lo scorso anno in Coppa il Bastia invece protesta e mastica Amaro. 48 e 22 dopo tre minuti di recupero tutti pensano ai rigori. Palla sbagliata da Convito, missile di Cucchi e il Foligno avanza. E' finita in questa maniera però nessuno può disconoscere anche i meriti della mia squadra. Abbiamo fatto delle buone cose nella fase iniziale del primo tempo molto bene. Tenevamo il campo nel modo giusto. Sapevamo quello che fare sia nella fase difensiva sia in quell'offensiva. Siamo stati in grado per tutta la partita di controbattere quelle che erano le situazioni che si proponeva il Foligno. Alla fine è andata come è andata. Con la partita finita da 22 secondi abbiamo perso. Giglio si è presentato nel migliore dei modi. Sì, Giglio ha fatto un gran gol. L'azione è stata sviluppata in una maniera, penso, importante. Siamo contenti per tante cose. Quindi è la seconda partita che giochiamo. Massimo Cocciari è contento soprattutto di che cosa? Dell'atteggiamento, della voglia, di quello che siamo stati in grado di proporre con una buona personalità. Non è che io faccio il mago. Questi sono ragazzi che sono 20 giorni, che si sono trovati per la prima volta insieme. È un gruppo totalmente nuovo. E quindi per quello che abbiamo fatto, ripeto, essendo la seconda partita contro una buonissima squadra, che è partita con un 7-8 undicesimi dell'anno precedente, con lo stesso allenatore, quindi con dei vantaggi importanti. Sono 15 giorni in più di preparazione che hanno sulle gambe e da tutti gli altri punti di vista. Perciò, per certe cose, sono molto contento. Mi dispiace per come è finita la partita, perché penso che almeno la soddisfazione di calciare i rigori ce la siamo meritata. Però così non è stato. Non voglio sminuire la vittoria del Foligno, ma è evidente che siamo molto rammaricati, perché la partita era finita. Antonio Armilei, è il caso di dire Cuchi gela il Bastia. Qualche protesta in casa Biancorossa, perché i tre minuti erano scaduti. Sì, io sinceramente non è che stavo guardando l'orologio, però se lo dicono significa che il tempo era superato. Non è che sto qui a dire. Però c'è un albitro che ha deciso in questa maniera. Sul piano mentale quanto conta una vittoria così, conquistata in rimonta alla prima ufficiale. Conta tanto. Tutte le vittorie sono importanti, però questa, soprattutto all'inizio, è una partita molto, molto importante. È molto importante per noi, ma soprattutto, secondo me, molto importante anche per la piazza, perché sono convinto che anche per i tifosi vincere all'ultimo minuto è tanto. oggi erano tanti i tifosi, quindi mi aspetto domenica prossima ancora molti, molti di più. E l'avversario sarà il Tolentino, guarda un po' affrontato già in Coppa lo scorso anno. Sì, me lo dici te adesso, insomma. Quindi, niente, l'anno scorso in casa abbiamo perso, speriamo che il risultato quest'anno sia diverso. Però qualificazione comunque, no? Arrivata col Tolentino. Sì, sì, quello è vero. Speriamo che sia quest'anno una vittoria che ci permette comunque di andare avanti anche in una competizione in cui ci teniamo a far bene. Mercato si riparte dalle certezze. Una su tutto Peluso, traversa anche nel secondo tempo, recuperato in settimana. La novità, il nuovo acquisto, lo chiamiamo così, è già no suo l'assist per l'1-1 di Giabbe Cucci, ma grande prova. Insomma, un terzino sinistro del 2001, così ce l'hanno in pochi. Sì, oggi sinceramente, soprattutto nel primo tempo, non ha fatto molto molto bene. Poi dopo, piano piano, nel corso della partita è migliorato. Mentre nelle partite precedenti aveva fatto bene, bene, molto bene. Particolarmente soddisfatto di qualcuno? No, allora, se analizzo la partita, non mi è piaciuto. I primi 20 minuti il Bastia ha meritato il vantaggio. Poi piano piano siamo cresciuti e siamo riusciti a recuperare la partita. Però è stata una partita molto molto equilibrata, insomma, in cui il risultato del pareggio e forse andare ai calci di rigore era, diciamo, l'epilogo più giusto. Mercato chiuso. Prima partita della stagione vinta. Antonio Armilei si sbilancia e dice che questo Foligno dove può arrivare. Io sono stato sempre chiaro come è stata chiara la società. Noi abbiamo detto che quest'anno l'obiettivo del Foligno è quello di mantenere la categoria. Però speriamo di far meglio, questo sì, molto molto di più rispetto al mantenimento della categoria. Grazie. Grazie.